Oh, come mai? Una spada nuova? Uno scudo nuovo? Un'armatura nuova? Perché ho farmato, porca miseria! E mi sa che ne avevo anche bisogno, porcaccia la troiazza! Direi che ho fatto un po' di lavoro extra off-screen, perché ce n'era bisogno che il povero Cucureddu qua, che tra l'altro, adesso che lo vedo, ha la faccia di un bambino di 5 anni, aveva bisogno di un po' di lavoro sopra, e quindi diciamo che mi sono fatto un giro off-screen nella foresta sotto il falò, dove ci siamo andati l'ultima volta. Anzi, chiedo scusa, voi non l'avete visto, ma era il falò che è praticamente dietro la chiesa. Sotto c'era una foresta, e ne ho approfittato per spaccare un po' di culi lungo la via, e anche qualche boss lungo la via di quelli facoltativi, come la farfalla della luna, che tanto a chi interessa. E soprattutto sono tornato anche indietro all'area del tutorial, e mi sono buttato anche l'altro boss, perché sono due i boss lì dentro, e ne ho approfittato, così mi sono fatto lo spadone del re cavaliere più 3, che prima avevo la claymore nel mentre, ho cambiato lo scudo, mi sono trovato un arco, mi sto trovando anche abbastanza benino, devo comprare flecce, e poi mi sono rifatto l'armatura, e adesso ho l'armatura del cavaliere di... ...dovevo farlo. Quindi direi di andare a fare i grandissimi culi nelle profondità, perché è lì che dobbiamo andare adesso. Ed eccoci qua, un attimino, ho avuto un po' di strada per arrivarci, ma siamo arrivati alle profondità, ho già aperto la porta per portarmi avanti, e vediamo un po' che cosa ci aspetta in quest'area totalmente nuova, segno di evocazione subito, perché siamo dei cagasotto fenomenali. Quindi diamoci dentro, intanto non riuscirò a evocarlo, lo so già, ormai è un'abitudine. Ma salve. Ok, voi altri vi sciotto, magari se vi miro... Eh vabbè, sì, un'altra volta. Vedo un drop in lontananza. Salve signor Daki. Con quale arma, tra l'altro? Cos'è un arco? Ah, no, è un bastone. Si, inizia a smantellarli, a fargli i grandi culi con la magia, che non nel frattempo. Ci recuperiamo le anime along the way. Ah, c'è un buco qui, non l'avevo vista. E via sulle scale. Mi raccomando, signor Daki, stia attento, va che... È una zona nuova per me, immagino anche per lei. Io nel frattempo me la frugo in allegria, nel mentre che lei ha i grandi culi. Per esempio, scendiamo qua sotto. Ah, dimenticavo anche un'altra cosa, che nonostante l'armatura sia gigantesca, non sono più in Fatroll, perché ho fatto una cosa decisamente intelligente, perché appunto nel mio ramingo girovagare sono anche arrivato dalle parti di Avel e gli ho fatto il culo come una capanna, motivo per cui... Oh, salve! Dicevo, motivo per cui adesso io a casa mi sono portato l'anello di Avel che mi ha fatto schizzare all'inverosimile il carico trasportabile. Mortissimo. Erano due. Aspetta un po'. Sì, ma stai buono, dove stai? Ok. Non si preoccupi, vabbè. Un'altra volta. Non riesco a colpirlo, cioè, io ci provo, ma abbiamo trovato un sacco, scusate. Sembra il babau di Nightmare Before Christmas, proprio uguale. C'è una porta, c'è un lago pieno di schifi, molti schifi, essere da tutt'altra parte a questo punto. O scendiamo da qua, va, che sembra promettere bene. Oh, intanto abbiamo recuperato anche un'umanità. Che bel posticino. No, eh, non cominciamo con queste schifezze per cortesia, eh. Perché veramente che schifo. Blea, blea, blea. Scusi che bevono, nel frattempo. Ma proprio blea è ancora blea. Morici per cortesia che mi fai schifo. Oddio, che schifo. Non l'ho preso mai. Scusa un attimo. Per cortesia, signor Daki, ecco. Mi ha rubato l'idea, però... A questo punto è sopravvivenza, non è... Ma schifo tantissimo, proprio. Ma schifo international. Non è... Uno schifo lovecraftiano. È inconcepibile con le parole. Eh, chi c'è qua? Zacc. E ci muore. Aspetta che questo è un drop importante. Uy, la titanita è verde grande, addirittura. Ok, questa è chiusa. Scendiamo giù. Mi faccia passare per cortesia. Ma che be... Che bel posticino a meno. Oh, c'è una scala qui. Poi c'è anche un... Vabbè, dai, sì. Scendiamo giù, chi se ne frega. Si levi dalle palle, per cortesia. Che non ci vedo. Non si apre a questo lato. Cazzo siamo saliti a fare, me lo spieghi? A questo punto mi toccherà scendere. E andarlo a prendere di... Cazzo! La tripla della vita. Vi ammazzo tutti senza pietà, proprio. Questo sta... Rotorando sopra topi e controtopi. Il topo che fa la trappo... Il trappozzo. E un altro lì dietro che aspetta... Solo noi per morire. In acrobazia, proprio. Ma se fa tutto lì, io cosa sono venuto a fare qua? Mi scusi, signor Daki. Si aveva delle fondi. Probabilmente questa è la porta che ci serve. Porto invisibile? No. Era troppo bello per essere vero. Mi ero perso un'anima per stare. Ehi, già la nebbia. Mi faccio... Mi facci passare, per cortesia. No, eh. Siamo incastrati qua, vero? Ma porca di quella miseria! Ma anche l'architetto che ha pensato sti corridoi, porca di quella troia, eh. Studiati proprio... Con il culo, eh. Un'altra umanità. Il signor Daki non so dove sia andato. Nel dubbio prova ad aprire. Salti acrobatici. E nebbia. Vediamo un po' che... Che cosa ci attende. No. Niente di che. Meglio... Meglio così. Ancora Papa Francesco qua. Tutti i giganti che mi fanno le gangbang. Oh, ecco, grazie. Un attimino di spazio che devo bere. Ecco, muorici per cortesia. Grazie. Cosa sta massaggiando un topo? Ecco, finalmente. Siamo riusciti a... A freddarlo. E tu invece non scappi da nessuna parte. Perché... Scemo simba, coglione no. Comunque davvero questo sacco non fa guardarti, Cucuredu. Per cortesia, torniamo alle cose normali. Ecco. Sei già più bellino così. Quello che cacchio è? Un melmone schifero. Ti faccio vedere io, va. Muorici malissimo. Niente d'oltre. Ok. Altra curva. Ma porca di quella... L'ho anche pensato. Metti che c'è una... No. Tu proprio no, eh. No. Visciotto, però. Meglio evitarle queste situazioni. Ecco. Bravo. Muorici tu e tutta la tua famiglia di schifi maledetti. È morto. Cazzo stai facendo? Basta. Cristo santo. Scusa un attimo. Ecco. Fuga strategica prima che sia troppo tardi. Grande anima. Ah, questo è vivo. Si confondono in mezzo ai cadaveri. Insomma. Ti ho salvato la vita da chi. Riconoscilo. Opla. No. Dove cazzo è l'altro? Ok. Là... Ci è mancato un pelo. Anello dell'ultimo malvagio. Sembra interessante. Sembra molto molto interessante. Perché se fa le stesse cose che faceva anche negli altri rexfus probabilmente ci divertiremo tanto. Adesso io devo tornare su dove sono caduto come una pirletta. Qua cosa abbiamo? Ancora voi. Prima che fosse troppo tardi abbiamo evitato maledizioni e contro maledizioni. Attenzione maledizioni. Ah beh, immagino si riferisse a questi schifi. A questi brutti bagarospi. Allora. Chi c'è? No. Qui c'è una cascata. E un altro di quelle mer. E un altro di quei merdosi esseri. No. Mortissimo. Non farti maledire. Bah. Cucureddo se non ti maledice lui ti maledico io, eh. T'avviso. Lo sapevo io che queste cacchie di profondità sarebbero stati una mega pigna nel culo, ma non fino a questo punto. Grazie al cielo abbiamo trovato qualcuno disposto ad aiutarci, ma i grandi cagotti rimangono. Stava andando dai suoi fratellini. Ah, è buono lì. Lonti i coglioni di una pante che è una schiferrima. Oh! Una vecchia conoscenza. Dov'è? Si palesi, Cavaliere Capitano Kirk. Eccolo lì. È buono. Che ti sci... Minchia, l'ho trisciottato. Non ci hai fatto un figurone, Capitano, eh. Torna con Mestizia nell'Enterprise che ti conviene. Mi ha droppato qualcosa? No. Manco per sogno. Cos'è quella roba che sbuffa? Cucco! Ah, ancora di questi. Certo che se ce l'abiti di metterci 20 minuti per l'animazione dell'affondo, caro il mio cucureddo, eh. ho qualche passo in avanti almeno. Oh, vedo un nebbione giganterrimo. Quindi direi che a questo punto se tanto mi dà tanto, se c'è la nebbia, questa è già la seconda, c'è un boss. E siccome io non voglio sprecare le mie nove fiaschette, Dio solo sa come ho fatto ad arrivare con nove fiaschette fino a qui. Ah no, ok. Non è la nebbia del boss. Scusate. Pensavo fosse... È però un'altra stanza. Chiedo scusa. Ho sprecato un'umanità in teoria. Perché se la... Oh, un altro segno di vocazione. Rumpel. Che bei nomi. Beh, mi sa che ho sbagliato di qualche metro invece, perché... Un segno di vocazione. Una nebbia mi sa che c'è. Ed è qua giù. Il tempo di scendere è qui. Ok. Fuggiamo il posto perché... Ecco, una balestra pesante. Magari potrebbe anche aiutare. Potrebbe, ma... Ho visto che le balestre sono un po' scomode. Il signor Daki aveva fatto un grandissimo lavoro fino a qui, ma adesso tocca farsi veramente i grandi culi. E soprattutto... No, non ce l'ha fatta il signor Rumpel. Andiamo... Però c'è un altro Momon Nestor. Complimenti per il nome. Vediamo se riusciamo a evocare lui e andiamo in tre contro uno. Perché... è palese che ci sia un bosco. Non sto neanche a... a farci la battuta. Cioè... Io più che altro... Salve signor Momon Nestor. Dicevo, io non ho trovato il falò. E questo mi preoccupa alquanto. Perché significa che per arrivare fino a qua dopo devo farmi il mega culo. Quindi... Io toglieri un'altra cosa. L'anello della protezione che ho recuperato durante le mie... durante le mie scurribande. E ci mettiamo l'anello del sacrificio che tanto... per quanto a vitalità non stiamo messi malissimo. Perciò... Così almeno non perderemo le... le anime e le umanità. Questo io lo conosco. Buona parte dei souls li conosco. Lo sapete. Ma niente ti può preparare. come vedere sto cazzo di Drago Famelico in prima persona. Ma proprio niente. Proprio... niente. Che schifo. E sottolineo che schifo. Per cortesia... arrivate quando dovete. Perché qua... tocca farsi... Non l'hanno neanche colpito. Come? Vabbè, anche io, eh. Manco mi ci... Manco ci sto provando. Signor Momonestorn. Madonna. Madonna. Gli faccio anche un bel danno. Aspetta un po'... Ahia. Una codata in faccia proprio. Senza chiedere perché. Minchia, gli faccio anche un discreto danno con questo... Solo che io adesso... Ecco. 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 Io ho questo. Temevo. Dove cazzo stai mirando anche tu? Ocio, 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 ocio. Vabbè. Non lo colpisco mai. Neanche se mi metto di impegno. Ecco. Adesso lo colpisco anch'io. E vabbè. Lo volevo fare io se non vi dispiace. Vabbè. Fate come cazzo volete. Cioè, ok che vi ho chiesto di aiutarmi ma vorrei lavorare anch'io. Oh, ecco perché. Mi sto facendo il mega culo. Mica peraltro. Ocio, 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 ocio. Non vedo una sega. Ok. Madora. Ecco, Daki sta per lasciarsi... Anzi, mi correggo. Ci ha lasciato. Opla. Non lo colpisco mai. Ma mai, mai, e poi mai. Ecco, adesso sì. Manata, giusto per gradire. Fuggì alla velocità della luce. Ok, bravo. Che schifo! Che schifo, amici! Ci sono finito in mezzo, proprio, eh. Madonna santissima. È roba di gastroenterologo qua, porca di quella troia. Si faccia da nana controllatina, signor drago. Questo è il reflusso esofageo. Minchius. E che ci mette venti minuti a farlo all'attacco? Però faccio male. Aia. Non vomitare di nuovo. Ecco, grazie. Mi fai un po' schifo. Mica peraltro, eh. Preso mai con l'attacco in salto, perché siamo... ...dei fenomeni da baraccone. Minchia! Gli facciamo veramente i grandi culi. L'unico problema è che... ...è rimane discretamente pericoloso, ragazzo. Nanananananananananana. Ok, momonne stormi, il tuo sacrificio non sarà in vano. Te lo prometto. E infatti... ...dalla prima botta... ...tutti muti. Tutti muti. E che cazzo. Anche... Anche Cucureddu ci ha tenuto a farvelo dire. Perché non gliel'ho detto io di fare quel gesto. Stay down, bitch! Uh. L'armatura è che a conti fatti non ci serve più a una ceppa. L'unico problema è che io adesso avevo un anello super fighissimo. Che ho dovuto distruggere. Però adesso ho la scusa per mettere l'anello dell'occhio malvagio. Allora, il fallo delle profondità non l'abbiamo trovato neanche di striscio. Ma sembra anche che non ne avremmo bisogno. Pertanto... Prosegui... Proseguiamo. Ma qui no. Dobbiamo tornare indietro a questo punto. Grasso. Ah, nel senso che non ci passo, giusto? Mi sembra giustissimo. Un boss... Con una facilità disarmante. Mi sorprendo di me stesso, quasi. E muoviamo verso un muovilivi a questo punto. È cambiata completamente l'illuminazione. Meraviglioso, proprio. Neanche una cacchio di via di mezzo, proprio. Adesso probabilmente mi scenderanno le catarate. Ok. Adesso si può scendere con calmissima perché qua vedo già troppe robe sospese ed è un attimo a volare giù. Di solito in questi posti succede così. E infatti abbiamo anche già il comitato d'accoglienza. Cazzo, ho finito di dirlo adesso, eh. Finito di dirlo adesso. E la cosa bella è che adesso io devo rifarmi tutta la strada da capo. Da maledetto. Grazie a tutti. No.